Un'altra giornata di lutto per il mondo della voga alla Veneta con il funerale di Beppi Fonger all'indomani delle esequie dell'amico Sergio Tagliapietraciaci, entrambi a Pellestrina, nella chiesa di Ogni Santi. Per anni i due hanno formato una delle coppie più importanti del Remo nel panorama lagunare. Entrambi avevano 87 anni e si sono spenti a poche ore di distanza l'uno dall'altra. Molti rappresentanti istituzionali e del mondo della voga presenti anche oggi. Una persona sfisita, una persona brava, determinata, è uno che non si arrendeva mai. Una delle cose che mi ha anche insegnato è che bisogna cominciare l'obbiettivo. Questo mi ha aiutato molto a gare la vita e la vita. A ricordare Beppi è anche il fratello Palmiro, compagno di molte competizioni. E' bene che i giovani sappiano cosa hanno fatto i fratelli Fonger e che meriterebbero che entrassero nella storia. Dico una corbelleria, ma ci sono tante calli qui e non sarebbe male che una calle si chiamasse Calle Ciacci e un'altra calle fratelli Fonger. Dopo la carriera agonistica Fonger si è dedicato all'allenamento dei gondolieri, in particolare delle donne, formando campionesse come Gloria, Rogliani ed Ebola Scarpa.